Sono stati ammessi gli undici progetti presentati dalle associazioni di Canicati per la realizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzi. Lo hanno reso noto gli assessori alle politiche sociali Antonio Giardina e all'associazionismo Angelo Ocuva, a conclusione del lavoro svolto da un gruppo appositamente costituito per seguire l'iter delle manifestazioni di interesse relative al bando per i centri estivi Biancorosso 2020, gruppo che ha valutato e ammesso tutti gli undici progetti pervenuti. Questo l'elenco. Ripartiamo più forti, presentato dall'associazione Bull Fitness, Bull Grest, Estate con l'Ossetto, a cura della scuola dell'infanzia all'Ossetto, Vicini nella distanza, proposto dalla SD Pro Sport, Parco delle Meraviglie, curato da Magiclandia, Giocare Insieme, presentato da Società Cooperativa San Francesco, Un'estate a colori, proposto dall'associazione culturale e ricreativa Acuna Matata, Ludoteca Sbirulandia Park, a cura di Ludoteca Sbirulandia Park di Gallo, Gioia dei Bimbi, ideato dall'associazione Gioia dei Bimbi, gli scacchi dei Re Artù, proposto dall'associazione Leonardo, Estate in Allegria, presentato dall'associazione Alcattà Sporting Club, ed infine Baby School Summer, a cura della scuola dell'infanzia Baby School. Possono presentare domande adesso di iscrizione per partecipare ai progetti i genitori o i soggetti esercenti e la potestà genitoriale regolarmente residenti sul territorio comunale, in caso di genitori separati si darà conto della residenza del genitore convivente con il figlio che si intende scrivere, o in possesso di un valido titolo di soggiorno. In caso di impossibilità dei genitori è possibile far domande di iscrizione da parte dei nonni, fratelli, sorelle e maggiorenni. Sarà stilata una gradutoria delle domande pervenute in base ai criteri individuati nell'avviso. Il valore del voucher è di 250 euro spendibile nei centri estivi accreditati al programma Biancorosso 2020, fino ad esaurimento delle risorse. In caso la tariffa complessiva del centro estivo sia superiore all'importo del voucher, la differenza sarà interamente a carico della famiglia. Nella domanda di iscrizione i genitori dovranno indicare il centro estivo preferito, nonché l'ordine delle preferenze, in caso di indisponibilità della prima scelta. La famiglia riceverà dal Comune la comunicazione telefonica dell'amministrazione con indicazione della modalità con cui ottenere il voucher. La domanda dovrà essere presentata al Comune entro il 20 luglio.